buongiorno oggi entriamo nella sezione belle da favola è questa volkswagen t rock è un 2000 turbodiesel 150 cavalli allestimento advance perciò il top col top degli accessori perché in più anche il cambio automatico doppia frizione dsg di volkswagen e sistema for motion 4x4 ruote motrici chilometri poco più di 69 mila tutti i tagliandi ufficiali volkswagen luci a led con luci di posizione anche a led sensori di parcheggio anteriori e posteriori cerchi in lega da 18 pollici poi guardate com'è tenuta la carrozzeria di questa vettura se è bella in foto o in video vi invitiamo a venire a visionarla dal vivo e provarla sempre previo contatto telefonico così sarete certi che sia ancora disponibile qui nella nostra sede di secuniago e quando sarete qua capirete perché c'è tanta enfasi nello spiegarvela perché è bellissima for motion significa quattro ruote motrici che per di più è un quattro ruote motrici con frizioni alex perciò ai consumi di un due ruote motrici ma solo all'occorrenza diventa un quattro ruote motrici senza che voi dobbiate fare nulla vetri oscurati posteriori bagagliaio tutto rivestito in moquette con i sedili posteriore sdoppiabili e tra gli accessori extra installati anche il ruotino di scorta e gli interni sono quelli della classica t rock di volkswagen perciò tanta abitabilità tre persone in statura anche medio elevata stanno comode perché potete notare lo spazio per le gambe per i sedili posteriori bocchetta posteriore sedile passeggero e guida come col volante sono regolabili in altezza guardate anche il sedile di guida nelle condizioni in cui si trova specchietti regolabili elettricamente i vetri elettrici anteriori e posteriori ecco pensate che qua di solito i sedili sono sgualciti rovinati guardate questo qua tenuto veramente bene luci di attivazione automatica come i terzi cristalli e come lo specchietto interno che è fotocromatico perciò si oscura automaticamente a seconda dell'intensità della luce proiettata dai fari delle auto che arrivano posteriori volante con pelle cruise control adattativo schiacciando questo tasto aumentato diminuite la distanza dalle vetture che vi precedono poi tutti i comandi del computer di bordo strumentazione digitale il virtual cockpit attiva climatizzatore automatico bizona sinistra destra separato potete vedere che si cambia semplicemente ruotando la rotellina e poi questo favoloso sistema multimediale con navigatore autoradio freno a mano elettrico drive mode e poi questo fantastico favoloso cambio automatico di Volkswagen che ormai ha fatto storia e vedete anche le due prese usb perché la vettura è dotata anche del Apple CarPlay e Android Auto questa è una vettura che veramente lascerà il segno ed ecco qua il cuore della vettura questo quattro cilindri 2000 turbodiesel 150 cavalli con la solita maniacale esposizione tedesca come potete vedere tutto molto ordinato automatica quattro ruote motrici bella bianca Volkswagen T-Roc è qui da noi in autosmile vi aspettiamo ricordatevi sempre di contattarci prima di passare così sarete certi che sia ancora disponibile il prezzo è da shock anche quello perché è veramente molto interessante tenendo presente il rapporto qualità prezzo è annata che è in 2018 questa vettura con tutti i tagliandi ufficiali Volkswagen vi aspettiamo